la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno gentili telespettatori, buon sabato a tutti ben ritrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News e sfogliamo subito le pagine dei quotidiani partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale che apre ancora una volta con un rapporto della Svimez il sud ancora giù vediamo infatti il titolo di apertura sud i dati shock della Svimez PIL a meno 1,5 nel 2014 e a meno 0,7 nel 2015 manovra a Renzi vicino all'accordo con l'Unione Europea il rapporto Svimez la recessione non lascia il mezzogiorno Padoana a Napoli per la crescita serve capitale privato vediamo gli articoli correlati la sinistra e il suo futuro se lo strappo della CGL torna a dividere la piazza e ancora gli articoli correlati l'analisi perché l'Europa non si può convincere per le idee quante bugie sui fondi comunitari torniamo di taglio alto la cronaca solda un 17enne uccidi mio marito ma la pistola del killer si inceppa Pompei in manette la donna e il ragazzo andiamo a centro pagina la fotonotizia si parla del Napoli la crisi del Napoli un caffè doppio per svegliare Benitez l'ultimatum di De Laurentiis ora tre vittorie cambiamo argomento torniamo alla cronaca assalto al Cristo velato ferito uno studente danni alla struttura indaga la Digos 50 manifestanti forzano l'ingresso della cappella Sansevero per il commento quei brutti figli dell'impunità vediamo di taglio basso come chiude questa prima pagina del mattino nazionale operata già morta chirurghi arrestati a potenza primario e due medici proseguirono l'intervento per coprire l'errore e ancora punte secche se la paura è l'altra faccia del potere questa è la prima pagina del mattino nazionale quindi un riepilogo di quelli che saranno i principali argomenti trattati dal quotidiano questa mattina ora andiamo sulle notizie di primo piano vediamo intanto quali sono le azioni che il governo intende mettere in campo contro questa recessione che prosegue vediamo il titolo le misure rincari di iva e benzina le trappole della recessione se la ripresa tarda nel mirino spese mediche e mutui andiamo una parte dell'articolo il ministero del tesoro ha provato a gettare acqua sul fuoco via twitter attraverso il profilo ufficiale a chi iniziava a protestare sui social network per i dati emersi dal testo finale della legge di stabilità soprattutto sull'aumento programmato dell'iva gli uomini di Pier Carlo Padoan hanno tentato di spiegare che sul piano giuridico le regole dell'Unione Europea non accettano più clausole salvaguardia ma che l'impegno politico è per il non aumento dell'iva e vediamo i commenti di fondo scusate la battuta di Brunetta l'esponente di Forza Italia la manovra è una partita di giro anzi di raggiro tra finte riduzioni di tasse e aumenti certi della pressione fiscale continuiamo invece per la previsione di Fassine al deputato PD questa legge di stabilità ha un tratto recessivo avremo così un altro anno di stagnazioni e di effetti negativi sul lavoro il compito della Lorenzini il ministro della salute e malati non autosufficienti hanno bisogno di quei 100 milioni di euro mi impegno per reintegrare le risorse e ancora la scelta di Di Maio e il deputato di Movimento 5 Stelle vengono abbandonate ancora una volta le partite IVA che nel nostro paese abbiamo sempre spremuto continuiamo su questa pagina andiamo di spalla il monito il colle l'Europa non è un mostro che detta leggi inapplicabili il Quirinale appoggia le scelte di Palazzo Chigi contro l'austerità andiamo avanti lasciamo per il momento questa pagina andiamo sulla pagina successiva sempre di primo piano e occupiamoci del rapporto Svimez l'abbiamo visto il titolo di apertura nel 2014 per il Sud un meno 1,5% di PIL vediamo il titolo le previsioni crescita il Sud chiuderà l'anno a meno 1,5% il rapporto della Svimez le anticipazioni negativo anche il 2015 Padoan più investimenti dei privati giù anzi ancora più giù il PIL del Mezzogiorno a fine anno diminuirà di quasi il doppio di quello che la Svimez aveva previsto nelle anticipazioni di fine luglio da meno 0,8% a meno 1,5% 4-5 volte più basso della media nazionale che dovrebbe attestarsi tra lo 0,3% e lo 0,4% vediamo i commenti la sfida di Taddei responsabile economico PD noi stiamo scommettendo sulla parte più dinamica del paese la certezza di De Vicenti il ministro il viceministro mai è stata fatta prima d'ora una riduzione del cuneo fiscale di simile portata continuiamo la sfida di Noci per il presidente di Explora scommettere sul made in Italy significa puntare sull'innovazione e andiamo di taglio basso vediamo l'intervista a Passera nella manovra il mezzogiorno non c'è scomparsi i fondi per attivare le risorse europee l'ex ministro ho il sospetto che la voce sia stata azzerata se fosse così addio investimenti per il sud si deve ripartire dalle infrastrutture porti e treni regionali e l'affondo si cresce schierando un team competente non un solo leader accentratore andiamo avanti il job act un pacchetto vuoto che non produrrà niente l'unica via di ingresso al lavoro giovanile resta l'apprendistato in azienda infine il debutto a gennaio Italia Unica sarà pronta per diventare un partito politico l'alternativa ai populismi che bloccano il paese e con queste notizie lasciamo la parte nazionale del quotidiano il mattino occupiamoci ora invece dell'area del salernitano vediamo sulla prima pagina del mattino di salerno si apre con lo sciopero degli avvocati penalisti vediamo il titolo niente sciopero per il crescent stop ai processi da lunedì ma non tutti deroga per evitare strumentalizzazioni quindi il caso crescent resterà aperto andiamo avanti i penalisti in agitazione decidono l'assenzione ma non tutte le udienze salteranno i magistrati protesta in generosa andiamo avanti l'inchiesta Casoscarano nuova raffica di perquisizioni mentre per la politica primaria e PD entro dicembre o il 14 oppure il 21 e nella fotonotizia i nuovi medici il futuro è nostro una medicina che non è solo scienza rigore dei protocolli e tecnologia ma che diventa arte nel supporto psicologico al paziente nel segno di questi valori 270 neomedici hanno pronunciato il giuramento di Ippocrate andiamo di taglio alto Tonfo Salernitano un gol e sparisce vince il Lecce per 3 a 1 alla Rechi dopo la rete al quinto di Khalil secondo tempo da dimenticare davanti a 10.000 spettatori infortunio a Nalini e c'è il crollo l'articolo correlato è la serata più brutta ma non è ancora notte di spalla i 60 anni dall'alluvione a Salerno vengono ricordati con convegni e inchieste vediamo l'alluvione del 1954 dopo 60 anni le tragedie non insegnano e ancora le riflessioni ma la città ripartì con quella scossa andiamo di taglio basso il web riciclo 2.0 gratis su facebook il regalo più utile questa è la prima pagina del mattino di Salerno ora andiamo proprio nelle pagine dedicate all'inchiesta dell'alluvione del 1954 con fango e detriti che invase la città di Salerno vediamo il convegno fondi tagliati le tragedie non insegnano l'allarme dei geologi sulle risorse rafforzare la cultura della prevenzione vediamo sono passati 60 anni dall'alluvione che colpì Salerno nel 1954 ma poco sembra essere cambiato le buone pratiche di sicurezza idrogeologiche ancora non sembrano essere state recepite pienamente dalle amministrazioni e forse ancora meno dai cittadini proprio di questo si è parlato ieri mattina al Grandotello a Salerno nel corso di un convegno sul tema Salerno 1954 l'alluvione dimenticata tra memoria scienza e stato della prevenzione vediamo i piani esperti in attesa della svolta sui cantieri annunciata dal premier Renzi e l'assessore Cosenza per il territorio manutenzione continua per qualcuno quell'alluvione fu un'immersione nell'inferno con l'acqua però al posto del fuoco Maiori 25 ottobre 1954 la furia del Regina Maior aggredisce la cittadina alle spalle con la violenza di un agguato si contano morti si guarda annichiliti la devastazione quella drammatica notte di 60 anni fa è stata ricordata ieri sera nel salone degli affreschi del palazzo confalone e andiamo di taglio basso sull'unità il pesante atto di accusa potevano non morire sul giornale del partito comunista l'editoriale di Mario Agliata denunciò ritardi e omissioni potevano non morire questo è il titolo dell'editoriale firmato da Mario Alicata sull'unità di mercoledì 27 ottobre del 1954 a commento del disastroso evento che colpì la città e la provincia di Salerno la notte della domenica tra il 24 e il 25 ottobre e lasciamo su questa notizia le pagine del mattino ora andiamo invece sulle pagine del quotidiano la città la città apre con lo sciopero indetto dai penalisti a Salerno vediamo legali in sciopero ma non per De Luca questo è il titolo con cui apre i penalisti salernitani proclamano 5 giorni di assenzione dalle udienze ma fanno un'eccezione si terrà solo il procedimento sul crescent nel quale il sindaco rischia il processo nella fotonotizia invece la sconfitta della Salernitana Salernitana prende tre schiaffi e rovina la serata per Armandino capolista umiliata alla Rechi da Lecce serata da incubo alla Rechi per la Salernitana che dopo l'iniziale vantaggio realizzato da Khalil nella ripresa viene travolta per 3 a 1 da Lecce prima sconfitta della capolista davanti ad oltre 10.000 tifosi Granata in tribuna mezza Roma assente lotito sciarpata striscioni e fondi per il piccolo Armandino andiamo a centropagina i mutui li pagherà Caldoro Petrone del PD nuovo provvedimento della regione a favore dei comuni il consigliere regionale Anna Petrone lancia l'allarme e anticipa il nuovo provvedimento della regione Caldoro pagherà i mutui contratti dai comuni bisogna scegliere subito il candidato del centro-sinistra continuiamo con Findustria per il dopo Squinzi in corsa c'è Boccia e ancora Cava dei Tireni domani primari PD per l'elezione del primo cittadino andiamo di spalla la cronaca Vescovi a Renzi gli 80 euro dalli ai ragazzi e a Vietri rifiuti in curia ingresso in città da dimenticare per la sanità la quiete e l'avvertenza in prefettura vediamo ancora questa prima pagina che chiude con l'università giurano 178 giovani dottori la cerimonia al campus nel segno della scuola medica e mare canottaggio vele in città la mappa dei corsi ancora la mostra prodi e naufragi ma iori ospita la bellezza questa è la prima pagina del quotidiano la città andiamo ora nelle pagine interne e vediamo proprio le pagine di Salerno dove i penalisti hanno annunciato lo sciopero ricordiamo non per quanto riguarda il processo per De Luca sul caso Crescent il titolo legale in sciopero ma non per De Luca lo stesso poi della prima pagina la Camera Penale proclama 5 giorni di astensione con l'unica eccezione dell'udienza preliminare sul Crescent vediamo l'assemblea dei penalisti si spacca ma alla fine passa con la maggioranza con 17 voti su Trent il via libera 5 giorni di astensione dalle udienze per protesta contro il mancato rispetto del protocollo su orari e rinvii con un'eccezione però l'udienza preliminare sul Crescent che vede imputati il sindaco Vincenzo De Luca e altre 22 persone che calendario alla mano sarebbe rientrata nell'ultimo giorno di astensione ma che gli avvocati hanno deciso di celebrare comunque e andiamo avanti la replica dell'Associazione Nazionale Magistrati Stupore e Amarezza esprime stupore e amarezza per la notizia della proclamazione dello sciopero degli avvocati penalisti così inizia la nota della sezione distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati firmata dal segretario Piero Indinimeo e andiamo a centropagina il dissequestro il sindaco assicura in 10 mesi faremo i lavori nella piazza ancora iniziativa dei 5 Stelle interrogazione sull'uso di fondi europei o dell'Unione Europea l'eurodeputata di Nolfi chiede chiarezza sul Poa di Santa Teresa e su questa pagina della città ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo per sfogliare le altre pagine dei nostri quotidiani bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo a sfogliare le pagine di cronache del Salernitano vediamo il titolo di apertura come Escarso Menichini con una sostituzione ad inizio ripresa Lerda cambia volto alla gara e Lecce ribalta il risultato stiamo parlando quindi della gara della Salernitana contro il Lecce ieri alla Rechi che finisce con il risultato di 1 a 3 per il Lecce illude il gol di Khalil con la Salernitana poi la Salernitana scompare di scena il tecnico non ne azzecca una vince solo Armandino lasciamo questo argomento andiamo avanti anche cronache del Salernitano si dedica ai 60 anni dell'alluvione che colpì l'intera provincia di Salerno in particolare proprio la città di Salerno vediamo 60 anni fa un viaggio all'inferno con l'acqua al posto del fuoco Vietri Maiori Cava e Cetara oltre a Salerno il ricordo della malanotte il convegno dei geologi parte l'allarme per il fusandola un errore la deviazione e ancora gli angeli del fango i soccorritori ricordano quei momenti terribili e le iniziative odierne cambiamo argomento andiamo a centropagina San Valentino Torio spaccio di droga con tweet 5 arrestati e l'ordine dei medici cellule staminali e il futuro dei neodottori questa è la prima pagina del cronache del Salernitano andiamo ora nelle pagine dedicate alle notizie del nostro territorio quindi andiamo sulla pagina del Diano e del Cilento si va a polla in apertura ebola falso allarme al curto 20 profughi nel mirino dei presunti rischi di malattie infettive e ordine pubblico ieri il sindaco Giuliano ha ordinato e poi revocato l'allontanamento di Eritrei il ricovero sospetto il sindaco di Polla Rocco Giuliano con un'ordinanza firmata nella mattinata di ieri aveva deciso di mandare via i 20 profughi di nazionalità Eritrei arrivati mercoledì sera il motivo del provvedimento in base a quanto scritto sarebbe la paura del contagio di eventuali malattie infettive tra cui l'ebola e possibili problemi per l'ordine pubblico passa qualche ora dalla pubblicazione dell'ordinanza e arriva la revoca della stessa da parte del sindaco ufficialmente il ripensamento sarebbe frutto delle rassicurazioni arrivate dalla prefettura sul trasferimento altrove dei profughi andiamo avanti il caso Fasulo la prefettura però come abbiamo appena sentito rassicura sul trasferimento degli africani le accuse di razzismo ma il virus fa paura il comune niente allarmismi e andiamo avanti cambiamo argomento dal 29 ottobre al 3 novembre torna con la 15esima edizione Teggiano Antiquaria vediamo torna la Teggiano Antiquaria e del collezionismo la mostra quest'anno al castello Macchiaroli andiamo avanti centro pagina Padula riecco la giornata del ricordo per gli allievi dell'orfanotrofio della Certosa domani l'appuntamento con la terza edizione della manifestazione domani si terrà anche la premiazione del primo concorso fotografico organizzato dall'associazione nuove idee presieduta dalla professoressa Sorrentino e andiamo di taglio basso l'iniziativa a Roscigno colazione con il sindaco Palmieri per recuperare il rapporto con i cittadini recuperare il rapporto con i cittadini questo l'obiettivo del primo cittadino Pino Palmieri con l'iniziativa colazione con il sindaco da lunedì 27 ottobre l'amministrazione comunale incontrerà ogni mattina una famiglia del paese invitandola a dialogare con la massima istituzione presente sul posto il sindaco sarà un'occasione per raccogliere nuove esigenze partendo proprio dalle famiglie queste le parole del sindaco di Roscigno Pino Palmieri ora andiamo di spalla sala consiglina IMSS al passo con i tempi ne parla il direttore l'IMS di Salerno ha da tempo avviato una profonda analisi funzionale delle sue strutture periferiche che in provincia sono tante nella Norcerino Sarnese al Vallo di Diano e della Lucania per finire al saprese di questa nuova politica territoriale dell'entene c'è l'intervista al direttore Felice Bianchini e queste le pagine di cronache del Salerno Arditano ora ci spostiamo in Basilicata per la prima pagina della Nuova del Sud vediamo quali sono i principali argomenti in apertura si apre con il caso l'abbiamo visto anche sul mattino dell'ospedale San Carlo arresti a medici per avere effettuato un'operazione dopo la morte del paziente vediamo manette al San Carlo questo è il titolo emblematico di La Nuova del Sud donna morte in cardiochirurgia a potenza nuova ondata giudiziaria arrestati il primario e altri due medici tra errori veleni e falsificazione di atti Marraudino e i chirurghi Cavone e Galatti sono accusati di concorso in omicidio colposo Maglietta interrompe le attività ordinarie del reparto l'audio shock di una telefonata Marraudino ha fatto la cosa più semplice tanto era morto il paziente gli faccio l'intervento e poi diciamo che è morto per una complicazione legata a questa lacerazione questo è il contenuto della telefonata shock lasciamo questo argomento andiamo a centro pagina Leopolda Renziana e corteo CGL la politica lucana su strade diverse da Renzi il senatore Margiotta e i pittegliani 50 bus verso Roma continuiamo precari danni e senza futuro ex LSUATA di Montalbano ed ex forestali in piazza sotto la regione certezze dopo anni di attese vane chiedono di essere stabilizzati rabbia e disperazione per tanti padri di famiglia ancora avvertenza firema spunta una accordata di acquirenti per le notizie in alto Bernalda una discarica di 2700 metri quadri in un vecchio rustico ancora la costa brucia con l'aiuto del vento in fumo ettari di macchia ad acqua fredda di Maratea sempre Maratea villette di Maratea e il CDS interroga comune e regione vediamo come chiude questa prima pagina di La Nuova del Sud il Corriere premia la Fucci con lo nonno fa volare l'aglianico continuiamo nonna Maria e zia Rosa insieme 204 anni da festeggiare succede a Muro Lucano le 100 candeline di Maria Luigia Petollino e a Maratea le 104 di zia Rosa per lo sport la Fucci ci conferma Italia e Danimarca Under 21 a Matera il 17 novembre per dire la Lega Pro c'è il Messina tra il Melfi e una vittoria a Matera di scena a Barletta lasciamo il calcio passiamo al basket L2S la Bauer riceve il Forlì e vuole i due punti preso Tagliabue per il calcio a 5 di Serie A2 Raclea Cantanzaro riposa l'Avis Policoro stop anche in B questa è la prima pagina di La Nuova del Sud ora andiamo a vedere le principali notizie per il quotidiano Metropolis quindi torniamo a Salerno vediamo De Luca trattato come Rina richiesta di processo il sindaco sbotta tanta attenzione riservata solo al boss e a Bin Laden penalisti in sciopero ma saranno in aula per l'udienza di venerdì sul Crescent avvocati spaccati Salerno lavoro e giovani lettera del Papa al convegno della CEI e per riciclaggio scarcerata la commercialista di Scarano a Cava dei Tireni SOS Sicurezza è chiesto all'esercito allarme sicurezza in città il sindaco Marco Galdi chiede l'intervento dell'esercito nelle strade ad Agropoli troppi verbali spari all'autovelox e ad Asti angri giallo Elena Ceste indagato il marito a Scafati invece picchiata per dieci anni il compagno nei guai il calvario di una moglie disperata la donna si rifugia a casa dei genitori vediamo lo sport di spalla la salernitana stecca il Lecce sbanca la Rechi ricordiamo il risultato 3 a 1 per il Lecce a Salerno l'iniziativa Cori Feste e Solidarietà gli Ultra per Armandino e per la Paganesi a Ischia Derby Salvezza sottile lancia dei Liguori vediamo le notizie di taglio basso Capaccio bomba carta all'autolavaggio terzo attentato in 40 giorni nell'agro auto rubate ricettazione condanne rinvie a giudizi e a Pagani vicenda Fatme fumata nera saltato il consiglio comunale andiamo nella pagina dedicata alle notizie provenienti dalla provincia di Salerno la parte sud della provincia di Salerno i lavoratori della Fergom di Sattese le promesse questo è l'argomento di apertura su questa pagina per Metropolis gli operai dell'azienda hanno presidiato la Cooper Standard a Battipaglia da loro più nessuna commessa sono a rischio ben 40 famiglie andiamo avanti centro pagina Capaccio Ordigno al centro motor e il terzo attentato all'autolavaggio di Licinella i carabinieri di Agropole a caccia del Bombarolo e Agropole autovelox fucilato colpi contro il dispositivo piazzato sulla strada provinciale 430 la mano armata di un automobilista esasperato per le notizie in breve di taglio basso Bellizzi Lutto Cittadino per Michele Bonanno Bellizzi ha perso un suo figlio un'artista come pochi un amico sempre disponibile nella città si unisce al dolore della famiglia e dei cari ciao Michele stiamo parlando del 32enne di Bellizzi morto in seguito ad un tragico incidente stradale intanto a Sassano Gianni Pacello trasferito fuori regione non è tornato nella sua Sassano il giovane 22enne che il 28 settembre scorso ha causato la morte di 4 giovani tra cui anche il fratello minore ed è stato dimesso dal reparto detenuti dell'ospedale di Salerno per poi essere trasferito in una struttura di recupero e riabilitazione fuori regione andiamo di spalla le notizie in breve ad Eboli rapina al tabacchio arrestati tre giovani a Monte Corvino escavatore a fuoco complice in manette Ponte Cagnano ruba tir a Napoli bloccato sulla A3 mentre ad Agropoli lavori cine e teatro mancano i dettagli e sulle pagine di Metropolis termina la nostra segna stampa vi ricordo l'appuntamento alle 13.45 con l'informazione di Uno News grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata